Perché la sede è vicino a casa mia Se è solo per questo e non perché lavori Non te la consiglio assolutamente Secondo me è un'università che non vale niente Proprio in termini di preparazione Non solo a livello lavorativo Non solo a livello lavorativo Saluto desde Argentina Speak ingresso Ingressurabile 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 Ingressurabile